La proroga negata della caccia alla beccaccia che la regione ha concesso solo a quattro ambiti territoriali, negandola ad altri otto, ha fatto emergere una spaccatura nel mondo venatorio. Nei giorni scorsi infatti una parte del mondo venatorio ha chiesto le dimissioni dell'assessore regionale alla caccia Dino Pepe. Oggi altre associazioni si sono invece scagliate contro gli stessi ambiti di caccia. Più che un attacco sulla beccaccia è stato un attacco palesemente politico perché per una proroga di soli dieci giorni alla beccaccia, nonostante che noi abbiamo molti soci che vanno a caccia a beccaccia, non poteva essere un motivo di richiesta di dimissione di un assessore regionale all'agricoltura molto importante per la provincia di Termodi. Quindi una richiesta di dimissioni per la beccaccia senza chiedere una conferenza di servizi oppure chiedere un confronto pubblico per quanto riguarda la documentazione è veramente risibile, ignobile e quant'altro si può dire su questa situazione anche, come si dice, eticamente poco edificante. Richiedere le dimissioni per solo dieci giorni perché stiamo parlando di dieci giorni. Le cose vanno dette nel giusto modo. Quindi sostanzialmente rispetto agli altri anni ci sono stati dei controlli in più e la regione ha aumentato le richieste di documenti? Sì, la regione ha aumentato le richieste di documenti anche perché è una materia molto controversa, molto soggetta a ricorsi al TAR, per cui seguire i protocolli previsti dalle norme è un fatto importante, per cui se si andava a prorogare la caccia alla beccaccia priva di documentazione, ovvero priva di quei censimenti obbligatori che dovevano essere a corredo del provvedimento di proroga, ovviamente l'atto della regione era impugnabile dinanzi al TAR o agli organi competenti e a quel punto chi avrebbe pagato le spese? Si poteva paventare anche un danno erariale.